Buonasera, benvenute, benvenuti. Buonasera, benvenuti, grazie per essere con noi oggi, per un nuovo appuntamento delle Padua Freedom Lectures. Siamo un po' emozionati, contenti di avervi con noi, di rivedere un po' l'aula magna qui a Palazzo Bo che si riempie di persone. Un saluto anche a chi ci sta seguendo in streaming sul canale YouTube dell'Università. Come la tradizione, prima di iniziare l'incontro, per iniziare l'incontro, chiamo sul podio il Rettore Rosario Rizzuto per un saluto. Illustri ospiti, colleghi e colleghi, studentesse e studenti, mi pare che ci siano anche nostre studentesse e nostri studenti. E con grande gioia e entusiasmo che do il benvenuto a Rula Jebreal, nell'aula magna dell'Università. Araba con passaporto italiano e israeliano, parla quattro lingue, l'arabo, l'ebraico, l'inglese e l'italiano. Molto bene, come sentirete. Si è battuta, impegnata per la pace, per la giustizia, per i diritti, i diritti di tutti e tutte. Capite allora perché siamo felici di averla qui. Capite quindi perché in questa Aula Magna, in questa Università, la accogliamo e la facciamo sentire a casa. Perché è la prima volta che entra in questa Università, ma credo che la senta già sua. La senta già sua perché questa è un'Università nata libera, da persone libere, che ha sempre difeso la propria libertà. La libertà che è significata, la libertà di Galileo Galilei nella scienza, dei nostri medici, della prima donna che si laurea al mondo. La libertà riconquistata nella Seconda Guerra Mondiale. Ricordo sempre che questa è l'unica Università medaglia d'oro al valore militare per la conquista della libertà. E allora chi parla di diritti, chi parla di libertà è a casa in questa Università. Ed è un'Università che, lo diciamo avendo gli 800 anni l'anno prossimo, non è solo orgogliosa dei suoi valori e della sua storia, ma guarda avanti. E guardare avanti significa guardare alla costruzione di una società sempre più libera, sempre più aperta, in cui tutti abbiano gli stessi diritti, in cui l'inclusione e la parità sia un concetto vero, sostanziale, non da notare occasionalmente, ma da avere come costituente indispensabile di una società. E allora se questa è la nostra identità e questa è la nostra identità, noi siamo felici che Rula Jebreale oggi tenga una Freedom Lecture. Noi vogliamo celebrare il nostro ottocentenario col nostro valore più forte, che è la libertà. E allora sentire parlare di libertà oggi, da chi la libertà la vive come noi, come un diritto inalienabile, diritto che solamente se presente garantisce che la società e la pace tra le società sia una pace giusta. E quindi benvenuta, benvenuta veramente con il cuore nella nostra università. Grazie al Rettore, al Professore Zuto, per i saluti. Gli altri saluti sono di Annalisa Oboe, prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere. Grazie. Buonasera, benvenute e benvenuti a questa Padoa Freedom Lecture. È la terza di questo ciclo di lezioni importanti sulla libertà, con cui abbiamo pensato di accompagnare questi mesi di avvicinamento agli 800 anni della nostra università. E come diceva il Rettore, la libertà è il valore cardine, il cuore etico di questa università. E quindi abbiamo pensato a delle lezioni con personaggi importanti del dibattito culturale, politico, sociale e scientifico, del panorama nazionale ma anche internazionale, come succede anche oggi. A parlare di libertà è Rulla Jebreal. Sappiamo di lei che è giornalista pluripremiata, docente universitaria, scrittrice. Direi che innanzitutto, prima ancora che salga sul palco, le facciamo un bel applauso di benvenuto. Oggi Rulla ci parla di libertà dal punto di vista della parità di genere e per me questo è un incontro emozionante per tantissimi motivi. Il primo è che da qui, da Patova, dal nostro Ateneo, seguiamo con molta attenzione come le donne si stanno muovendo, cosa fanno, cosa dicono, non solo in università ma nel sociale, nel politico, in Italia e fuori. E questa nostra ospite di oggi ha uno sguardo che ci interessa, che ci serve per offrire un quadro globale analizzato con competenza e con profondità e anche vissuto in prima persona. Questo per noi è un motivo di grande gioia poter averla qui oggi. È emozionante anche perché il lavoro che le donne stanno facendo, con sempre maggior convinzione, autorevolezza, è un lavoro inclusivo, fatto per tutte e per tutti, non solo per le donne, e con uno sguardo che abbraccia anche il pianeta. Siamo emozionati anche perché questa è la prima Patova Freedom Lecture che facciamo in Aula Magna. La prima l'abbiamo fatta durante il primo lockdown, con Jean-Luc Nancy, la seconda con Tawakol Karman, non più tardi del 4 di maggio, no, giugno, scusate, l'altro giorno. E quindi abbiamo questa voglia di ritornare a guardarci in faccia, a riscoprire le relazioni tra persone e speriamo che finiscano presto anche i distanziamenti e che si possa davvero ritornare a parlarci senza le mascherine. Devo dire che questo è un momento altrettanto emozionante perché nell'Aula qui accanto si stanno svolgendo le relazioni per il prossimo rettore, per il prossimo sessegno del rettorato dell'Università di Padova. Non è mai successo prima, ma le cantigliette che si contendono per il ballottaggio oggi sono tre. Tre donne che hanno delle cose importanti da fare e da dire per questa società. E quindi questo mi sembra già di per sé una cosa da celebrare. Quindi sappiamo già che nel prossimo anno avremo una rettrice. Non sappiamo ancora chi, ma avremo una rettrice. Mi sembra un bel traguardo da poter condividere anche con Rula qui oggi. È un volto noto della televisione Rula Gebral. E sui media credo non abbia bisogno di presentazioni. Però oltre a dire che è giornalista, scrittrice, docente, vorrei dire che è esperta di questioni medio orientali, da sempre attiva sul fronte dei diritti umani, delle lotte per l'empowerment delle donne. È anche un'osservatrice attenta dell'Italia di oggi, con le sue spaccature, le sue complessità e nella sua visione sono proprio le donne, con la memoria delle donne, la forza delle donne a essere attrici di cambiamento, a tracciare una strada per un futuro in cui i bambini e le bambine, perché pensiamo alle nuove generazioni, possano vivere nel benessere, nel senso di stare bene al mondo, con la speranza con cui li accompagniamo fin da oggi. Il titolo di questa lezione è di Rula Gebral, è l'arco della parità, come le donne stanno costruendo un futuro finalmente inclusivo. Rula ha da poco pubblicato un libro che si chiama Il cambiamento che meritiamo per lunganesi, proprio nel 2021. In questo libro Rula evoca, riunisce, da voce, a una rete di donne che si parlano attraverso il tempo e le generazioni. Ci sono le nonne, le madri, le sorelle, le figlie, che sono o diventano la sua eredità e, se vogliamo, anche la nostra. In questa rete di voci femminili spicca quella di Toni Morrison, grandissima donna africana-americana che per prima ha vinto il premio Nobel per la letteratura in quanto nera americana. La Morrison ha sempre parlato contro il razzismo, la discriminazione, la violenza in ogni sua forma e una delle cose che ripeteva sempre senza stancarsi è diventata anche una delle sue frasi più famose, che Rula cita all'inizio del cambiamento che meritiamo. Morrison diceva di non essersi mai stancata di ripetere questa frase ai suoi studenti, alle sue studentesse. Diceva, quando ottenete, diceva ai suoi studenti, quando ottenete quei lavori per cui siete stati brillantemente formati, ricordatevi che il vostro vero lavoro è che, se siete liberi, dovete liberare qualcun altro. Se avete un po' di potere, allora il vostro compito è dare più potere a qualcun altro. Quindi questo è quello che sta facendo anche Rula, sta usando la sua voce per dare voce ai tanti silenzi che ancora paradossalmente sentiamo e quindi le lascio volentieri la parola. Grazie, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie di essere qui. È un bel giorno oggi. Non perché nell'aula accanto stanno votando per una donna. Un bel giorno perché torneremo a vivere presto e torneremo soprattutto a appropriarci, a comprendere cosa vuol dire essere liberi. Il lockdown sembrava una prigionia forzata, però in quella prigionia abbiamo trovato qualcosa in comune con tutti quei popoli, con tutte quelle nazioni, con tutte quelle donne che non hanno mai vissuto un giorno di libertà nella loro vita, che non possono scegliere perché i loro regimi, i regimi autoritari che le governano, impongono a loro quel tipo di lockdown tutti i giorni dalla loro vita. Immaginate quel lockdown che è durato mesi, 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 che sembrava davvero in cui eravamo tutti noi quasi in carcere a casa nostra per salvaguardare magari il nostro vicino. Quella è la condizione dove milioni di donne vivono, Medio Oriente e non solo. Una delle mie frasi preferite effettivamente sono le parole di Toni Morrison, però c'è una frase che mi ha sempre segnato la vita è quella dell'arco dell'universo morale che è molto lungo, molto, ma tende e pende sempre verso la giustizia. Quell'arco morale che io vedo, che ho visto nella mia vita, un arco morale che magari è iniziato da qualcun altro, un pozzo di libertà che è costruito da qualcun altro, dove viviamo tutti noi, ma abbiamo il dovere di proteggere quel pozzo di libertà. Perché non è così sicuro come pensiamo. E l'abbiamo visto anche nei paesi occidentali, dove ci ha voluto una elezione sola per scuotere quel tipo di libertà. Quando parlo di femminismo, molto spesso le persone si rivolgono a me e pensano che sia una questione di donne, e solo di donne, che non riguarda loro. Ma quando parli con le donne egiziane che vengono torturate, stuprate, incarcerate, da regimi tra l'altro sostenuti anche dall'Occidente, come il regime di Mubarak o al Sisi, molto spesso ti dicono quelle donne cos'è il femminismo per loro. Il femminismo è giustizia. Giustizia sociale. Giustizia politica. Giustizia razziale. Salariale. Giustizia in tutto. E non è una questione di uomini contro le donne o donna contro gli uomini. È una questione di democrazia. È una questione di civiltà. È la misura di ogni civiltà, di come trattiamo le bambine e le donne. perché riflette davvero in che direzione quella nazione sta andando, che traiettoria e che tipo di attenzione. Pensate a una cosa. Quando avete guidato una macchina, mettete la mano davanti a un occhio e pensate se guidate quella macchina lì guardando con un occhio solo. State andando verso un'altra città. È un occhio chiuso. La strada la vedete, ma parzialmente. In questo momento, in tanti paesi, con l'esclusione delle donne, l'unico paragone che posso fare è quello di una società che guarda in una direzione unica, sola, non in maniera tridimensionale. Quindi l'esclusione delle donne è anche l'esclusione da un punto di vista, di risorse, di ricchezze che vengono scartate a valle. Quindi quando si chiede l'inclusione delle donne, di task force, nei governi, nell'università, negli istituti di cultura, si chiede di includere 51% delle donne con una prospettiva diversa, un punto di vista diverso, una ricchezza, un'esperienza diversa. Io non avrei potuto essere qui, oggi, se non fosse per la lungimiranza di una donna che nel 1948 usciva da casa sua, si chiama Hind Hosseini, usciva da casa sua in una città che era già in guerra come Gerusalemme. Andava alle 7 del mattina, prendeva questa strada per andare dal governatore della città per parlare di come gestire la crisi dei rifugiati che tutti sono scappati dai vari villaggi attorno a Gerusalemme e come sono scappati lì. e davanti alla porta di Damasco incontra 55 bambini. La più grande aveva 12 anni, la più piccola aveva un anno e mezzo. Lì ha trovato il suo destino. Erano i sopravvissuti di un massacro che è accaduto la notte prima in un villaggio che si chiama Deryasin. La portate a casa e casa sua è diventata un orfano trofio. La sua vita è cambiata da quel momento lì. Io ho conosciuto questa donna molti anni dopo quindi quando parlo di quell'arco della storia in qualsiasi momento tu sei davanti a quell'arco hai una scelta deve decidere cosa fare che azione entra a prendere. E lo vedo tutti i giorni dove persone rischiano la vita sapendo di rischiare la vita ma quel momento lì dove la storia viene cambiata. Hint Hosseini crea questo orfano trofio che alleva migliaia di bambine. tante delle bambine che ha allevato oggi sono donne come me vivono in tutto il mondo e come me abbiamo fatto una promessa solenne quella di adottare altre bambine. Le mie ragazze e le mie studentesse siriane che io ho trovato in Siria quando la guerra ha scoppiato sono laureata a maggio e confesso davanti a voi che sono state le emozioni più grandi perché è lì dove questo per la prima volta ho sentito che quella promessa che ho fatto a lei continua quell'arco continua verso la giustizia. però ho visto una cosa che mi ha cambiato la vita a maggio di un anno fa guardavo la televisione negli Stati Uniti e ho visto un video che è stato fatto da una ragazza una ragazzina di 17 anni si chiama Dernella Fresa stava per andare a prendere un gelato e ha filmato per 8 minuti 47 secondi l'uccisione di un uomo George Floyd lei è rimasta ferma per 8 minuti e 47 secondi quei 8 minuti hanno cambiato la giustizia negli Stati Uniti con l'atto di coraggio lei non sapeva se il poliziotto attorno a George Floyd l'avrebbero uccisa era una ragazza grossa di colore era lì e loro lei orlavano addosso il poliziotto la guardava direttamente in faccia ha ricevuto minaccia di morte e nonostante queste ha resistito ha insistito Ornella Fresa mi ha fatto sentire nel video le parole di George Floyd che diceva che chiamava sua madre sua madre era morta due anni prima in quel momento lì tanti madri si sono sentite chiamate mi ricordo quel giorno lì in cui ho visto quel video ho pensato per la prima volta adesso le persone sanno cosa vuol dire razzismo persone che magari non hanno vissuto non hanno un colore di pelle come il mio non condividono la storia di tante persone che vengono descrivate tutti i giorni che magari sono ebrei musulmani persone di colore emigrati forse lì quel video lì li avrebbe sensibilizzati di cos'è davvero il razzismo per me il femminismo è questo non soltanto i diritti delle donne ma la novità più eccitante esplosiva nell'anno del signore del 2020 e 21 è stato questo che il movimento femminista è diventato intersezionale cosa vuol dire si è allargato ha rotto la catena del genere della classe sociale della razza e si è aperto a tutti quei gruppi marginalizzati esclusi discriminati per cui le urle di George Floyd è diventato anche la richiesta da parte delle femministe per la giustizia razziale le urle di una ragazza nella prigione saudita Lujene al-Hathloul una ragazzina di 28 anni che chiedeva al regime di Mohammed bin Salman il diritto al voto e il diritto a guidare fu arrestata anzi rapita lei faceva la comica fu rapita in Dubai trasportata e imprigionata in Arabia Saudita una campagna massiccia delle attiviste nel mondo che non conoscevano Lujene non l'avevano mai vista ma la sua storia nella sua storia risonava la nostra storia tutti noi Lujene Haslou è stata liberata il primo giorno dopo l'inaugurazione di Kamala Harris e Joe Biden non è a caso che è accaduto questo in uno dei dibattiti televisivi Biden è stato chiesto cosa pensi del regnante saudita lui ha detto che è una vergogna quello che è accaduto al giornalista Jamal Khashoggi è una vergogna la sua politica verso le donne anzi il suo primo atto era di ringraziare le donne le donne che sono scese nella piazza il giorno dopo la vittoria di Donald Trump 3 milioni di donne e hanno dichiarato a Trump alla sua amministrazione di estrema destra che loro sono l'opposizione vera non i partiti politici non i giornalisti anzi è stata la società civile che spengeva il partito democratico i media che molto spesso e lo dico da una giornalista che ha lavorato sia nei media italiani che nei media internazionali molto spesso raccontavamo storie dal nostro punto di vista non dal punto di vista della società civile invece la società civile oggi alza la sua voce e determina che tipo di giornalismo vedremo che tipo di giornalismo accetteranno sì o no quindi c'è una democratizzazione quasi del giornalismo dovuto anche all'attivismo della società civile per questo vorrei dirvi oggi che la vostra voce vale e chi di voi pensa che anche nel proprio piccolo non è rilevante quello che fate o magari non è importante io vorrei dirvi oggi che invece è molto importante che potrebbe davvero cambiare la storia sono quei piccoli atti di coraggio di determinazione in cui i valori di libertà di parità di fratellanza di solidarità vengono implementati e vengono celebrati soltanto quei atti lì possono cambiare la storia e vi do un esempio molto piccolo una delle storie che mi ha sempre colpito mi ha sempre scosso profondamente è la storia di una schiava americana una donna che era venduta ancora prima di nascere tutta la sua famiglia una donna che ha compreso in maniera intrinseca che lei era nata libera che non può essere una schiava scappata via camminando cento chilometri fino alla libertà quando è arrivata a destinazione nel nord dell'america ha deciso di cambiare nome perché non voleva quel nome che le fu dato da schiava è stata quella donna a guidare la resistenza negli Stati Uniti per abolire la schiavitù fu una donna poco celebrata perché tutti si ricordano magari Martin Luther King negli anni 70 o si ricordano Frederick Douglass intellettuali che volevano abolire la schiavitù ma era una donna invece di cui si raccontava sempre poco era una donna che davvero è andata da suoi amici nel nord soprattutto le persone di colore ha detto sapete noi abbiamo bovuto quel pozzo di libertà perché siamo scappate via ora abbiamo il dovere di tornare indietro quei stati sudisti e aiutare altri a scappare e liberare altri la frase di Tony Morris la frase di Frederick Douglass rispetto a liberare gli altri non è nata dal nulla nata da quella donna straordinaria in cui in maniera chiara diceva a questi uomini che erano scappati via erano terrorizzati perché sapevano se venivano catturati venivano uccisi appesi dagli alberi è stata lei a convincerli che avevano il dovere morale di tornare indietro e liberare gli altri nella sua vita ha liberato mille schiavi questa nonna anzi in una delle poche interviste che ha dato ha detto che avrebbe potuto liberare molto di più se quelle persone sapevano di essere nate libere se ci fosse stato anche un processo di rieducazione alla libertà io oggi sono qui davanti a voi in un'università straordinaria che dopo 800 anni elegge per la prima volta una donna vi chiedo di cominciare a insegnare la parità a tutti uomini e donne ma insegnare in maniera attiva in tutte le cose nella vostra vita cominciando anche a rifiutare e denunciare il linguaggio misogeno sessista di discriminazione perché finché normalizziamo quel linguaggio finché accettiamo o ignoriamo quel linguaggio cambierà poco davvero poco ma non solo nella vita privata nella politica nelle università ovunque ovunque siamo cominciamo davvero a rifiutare quel linguaggio che è stato sdoganato di violenza di odio soprattutto verso le donne e le minoranze lo dico perché nell'area si respira non solo i profumi di libertà ma si respira anche i profumi misogini violenti sessisti di persone che dicono alle giornaliste spesso per azzettirle che sono esperte di zoccolagene o dicono a una donna che magari era troppo ubriaca per consentire un rapporto sessuale la colpovalizzano e dicono ma insomma perché ti sono ubriacata se una ubriaca lo stupro non è una punizione per una donna che era troppo ubriaca per consentire se una troppo ubriaca per consentire e l'uomo la sta stoprando se una donna non è in grado di consentire e l'uomo la sta stoprando se lei non è in grado di consentire quando parlo di insegnare la parità o insegnare la legalità la giustizia bisogna cominciare a insegnare le cose basiche quasi e lo dicono un paese dove abbiamo dirigenti politici che spesso parlano delle donne come se fossero non solo oggetto ma inferiori però pretendono di avere un atteggiamento garantista quando vengono accusati di crimini veri e propri stupri la cosa scioccante nella mia carriera in cui ho coperto anche zone di guerra dove avvengono i stupri etnici dove in una guerra il corpo della donna diventa ormai un campo di battaglia il mio mestiere mi ha portato a intervistare persone come Nadia Murat che fu soprata dall'Isis che ha raccontato la sua storia donne come mia madre che non ha mai potuto raccontare la sua storia perché tutta la volta che ha provato a raccontare la sua storia l'hanno accusata di aver sudotto quell'uomo che l'aveva stuprata a 13 anni e quando ha avuto il coraggio di confrontare quell'uomo a lui quell'uomo lui ha detto cosa pensi uno ha un albero in casa un albero di frutta non ha il diritto di assaggiare quella frutta quella è la mentalità che va abbattuta questa è la mentalità questa è la cultura che va abbattuta il fatto che un uomo sente che ha il diritto al corpo di una donna il fatto che un uomo come il presidente del Brasile si rivolge in diretta televisiva a una senatrice e le dice se non fossi troppo brutta ti stoprerei e viene votato con un'ampia maggioranza o un uomo come Donald Trump che insulta la candidata perché è una donna lui dice che per forza suo marito ha dovuto tradirla perché è una donna così siamo costretti un uomo che quando è stato accusato da 18 donne di molestie sessuali la sua risposta era no non posso stuprare quelle donne sono veramente troppo brutte è impossibile lo stesso uomo che quando viene intervistato dagli uomini in qualche modo le attacca ma non tanto ma quando viene intervistato dalle donne e soprattutto le donne di colore le insulta in continuazione per mandare un messaggio a tutte le persone che sono suoi fan quelli che lo votano che così le donne vanno trattate anzi l'ha detto pubblicamente ha detto le donne vanno trattate malissimo perché soltanto così un uomo può essere forte dominante lui parlava delle donne in termini di dominio di proprietà privata questi sono i leader occidentali immaginate cosa succede nelle democrazie se queste le democrazie immaginate che messaggio veniva inviato al resto del mondo a regime autoritari è sorprendente che dopo quattro anni di Trump Erdogan non fa sedere una presidente di comunque un'istituzione importante dell'Europa non è a caso non è a caso quello che succede qui in occidente non finisce in occidente ha un impatto ovunque nel mondo quindi quando il presidente Macron dà un premio un'orfencenza quella più alta al generale Al-Sisi dell'Egitto sta mandando un messaggio che quello che sta facendo Al-Sisi in termini di crimini violazione dei diritti umani atrocità che sta commettendo dentro i carceri contro i 60.000 prigionieri politici in cui le donne che vengono stoprate e vanno a denunciare le viene somministrato il test della virginità dentro il carcere e vengono spesso arrestate quando diamo un premio a un dittatore come questo che uccide un nostro cannazionale come Giulia Rigeni che messaggio stiamo mandando alle attiviste di diritti umani civili ma soprattutto alle sopravvissute il messaggio che è stato dato a mia madre che non c'è giustizia un messaggio che uccide doppiamente non è soltanto lo stupro non è soltanto la violenza fisica non è soltanto la violenza psicologica ma l'indifferenza dei paesi occidentali dei nostri governi ogni tanto penso a mia figlia che ha 25 anni e penso che durante la mia vita ho visto almeno otto guerre in tutte queste guerre le donne sono state stuprate stupri veri etnici durante la mia vita quasi tutti i giorni ogni tre giorni veniva uccisa una donna in occidente durante la nostra vita abbiamo visto salire al potere uomini misogini violenti sessisti e stupratori o accusati di stupro se quel cambiamento che meritiamo non accade oggi mi chiedo quando e se non lo pretendiamo noi che abbiamo quella libertà quelle piatteforme forti quella posizione chi quelle donne che sono in carceri o quelle che vivono sotto origini autoritari è una chiamata all'azione questo libro perché così la prossima generazione non deve subire quello che abbiamo subito noi perché le nostre figlie le ragazze giovani che vedo sedute qui non devono mai vedere un uomo salire al potere che legittima e normalizza la violenza e faccio una promessa qualsiasi donna che decide di candidarsi in qualsiasi posto università se decide di implementare abbracciare una piattaforma progressista per la parità io prenderò le ferie per fare la campagna elettorale in qualsiasi posto perché abbiamo bisogno di voi abbiamo bisogno di prendere in mano il nostro destino se questa pandemia ci ha insegnato qualcosa che il mondo insieme può unirsi per trovare un vaccino contro un virus così letale però ci sono altri virus letali che uccidono tutti i giorni e uccidono con tanta ferocia altrettanto il caso della ragazza siciliana abbracciata viva dal fidanzato perché ha usato di dire no il caso di Saman e tanti altri casi in questo paese meraviglioso per questo nonostante vivo negli Stati Uniti ormai dei dieci anni l'Italia è il paese che mi ha liberato le possibilità di una donna che era nata e comunque in un posto di guerra che ha vissuto tutta la sua vita in un orfano trofio che non aveva nulla il mio biglietto per la libertà mi è stato dato da un governo italiano il governo di Ciampi nel 1993 attraverso una borsa di studio per questo sento il peso di questa opportunità straordinaria che mi è stata data che mi ha fatto diventare la donna che sono il mio attivismo politico e la verità non è nato in Medio Oriente è nato in Italia dalle donne italiane negli anni 90 soprattutto e anche dopo nella lotta delle donne che combattevano contro la mafia contro la misoginia e il sessismo gli anni di mani pulite e tanti altri guardando la storia delle partigiane per questo quando parlo qui in Italia è un modo per dare indietro quel regalo straordinario che mi ha mi ha trasformato la vita ma non so se è sufficiente per farlo per trasformare questa nostra bellissima Italia abbiamo bisogno di creare un'alleanza grande un'alleanza come quella che hanno creato le americane che hanno davvero cambiato l'arco della storia se guardiamo alle elezioni del 2020 vediamo stati del sud segregazionisti che per 40 anni erano stati dominati dai repubblicani sono state le donne che hanno cambiato quella storia è la storia di Stacey Abrams una donna del Georgia una donna di colore che ha perso tra l'altro l'elezione due anni prima per diventare governatrice della Georgia non è tornata a casa ha detto ok sono stata sconfitta torno anzi la sua sconfitta l'ha attivata ancora di più tornata indietro in Georgia ha preso le liste di tutte le persone che non hanno votato i giovani le persone che non ci credono più alla politica è andata a bossare le porte porta a porta finché era uscita a fare uscire a votare persone che non hanno mai votato nella loro vita compresa sua nonna di 90 anni che è andata a votare col flebo e Georgia lo stato di Georgia è diventato democratico con due senatori un senatore nero in un stato suddista che fino a 20 anni fa uccideva le persone appese dagli alberi le appendevano le persone di colore è un senatore ebreo lei ha fatto una campagna elettorale per trasformare la Georgia e ha vinto in quello stato quando ho parlato con Stacy Abrams ho detto ma Stacy voglio capire il tuo attivismo come è nato è nato molti anni prima è nato con un nome Emmett Till Emmett Till era un ragazzo di colore negli anni 50 aveva 14 anni aveva guardato una donna bianca semplicemente guardato la donna si è sentita a disagio l'ha raccontato a suo marito il bambino fu trascinato arrestato ucciso dalla folla ucciso dalla folla torturato ucciso dalla folla a suoi funerali la madre di Emmett Till ha decisa di fare un gesto forte di lasciare la barra aperta con le televisioni che guardavano quel funerale perché voleva far vedere all'America il volto della violenza cosa accade agli uomini di colore ai bambini di colore era quel gesto forte che ha trasformato Stacey Abrams che l'ha fatta diventare l'attivista che è diventata dopo che è riuscito anni dopo a far vincere la Georgia e c'era un altro gesto che ammetto che ha trasformato un'altra donna di colore negli Stati Uniti Oprah Winfrey era un gesto in cui lei era seduta insieme a sua madre a guardare gli Oscar a un certo punto entra un uomo di colore come lei con la stessa carnagione a presentare il premio a Mami Mami era l'attrice famosa di Via Colvento quell'attrice famosa lì in piedi ha creato un'offra a Winfrey l'idea che la rappresentanza conta che è importante visualizzare la diversità per poter ispirare ragazze giovani donne quando nella nostra televisione vedi tutti uomini io mi chiedo le ragazze le bambine ragazzine che stanno guardando la televisione cosa pensano se il medesimo con quei uomini grigi con tutto il rispetto si riconoscono il loro linguaggio nella loro retorica non credo per questo quando parlo ovunque parlo ovunque sono sia sulla CNN MSNBC sulla Sette ovunque penso sempre a quelle bambine che guardano a casa dall'altra parte perché il vero appuntamento che abbiamo tutti è con il futuro con quella generazione e vi invito davvero a continuare a pensare che qualsiasi azione fatta potrebbe davvero ispirare una persona che non conoscete e cambiare la sua vita e con la sua vita cambia la storia grazie grazie a tutti 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 ecco sapete perché ero emozionata lo siete un po' anche voi adesso è una storia bellissima quella che Rula racconta è una storia di soprusi ma anche di grande speranza e di grande apertura al mondo io ho letto il suo libro alcune delle cose che ci ha detto oggi le trovate lì però anche molte altre una delle cose che troviamo intanto ti ringrazio non so come ringraziarti è stato un bellissimo discorso e sono così felice di averti qui tu non hai idea questo tuo discorso lo condividerò con le nostre studentesse che sono in parte qui che sono in parte in streaming però è bene che le testimonianze vengano diffuse e condivise io vorrei calare un attimo il tuo discorso in questo momento storico in cui abbiamo vissuto una cesura una pandemia terribile che ci ha riconfigurato sia il passato che il presente che probabilmente anche il futuro sicuramente anche il futuro ci sono due momenti nel tuo libro nel primo dici che viviamo in una società minata da squilibri strutturali e di lungo corso alle donne equilibriste senza rete e questa è una spiegazione che ti chiedo sospese su una fune sempre più traballante viene attribuito un valore inferiore rispetto agli uomini è una patologia culturale un pregiudizio radicato a monte però qualche pagina prima ci dici che effettivamente stiamo combattendo una battaglia generazionale che ci pone in bilico tra il vecchio e il nuovo in cui la pandemia ha sparigliato le carte e se mi permetti leggo una cosa che tu citi perché amo molto a Rundati Roy e condivido la sua visione la sua impronta di attivista femminista ma anche di grande scrittrice che dice la pandemia è una possibilità sostanzialmente è un portale un cancello tra un mondo e un altro possiamo scegliere di attraversarlo trascinandoci dietro le carcasse del nostro odio dei nostri pregiudizi la nostra avidità le nostre banche dati le nostre vecchie idee i nostri fiumi morti i cieli fumosi oppure possiamo attraversarlo con un bagaglio più leggero pronti a immaginare un mondo diverso e a lottare per averlo ecco tu qui ci stai sei dentro in questo mondo in cui in cui si lotta possiamo essere ottimisti come rundati i roi assolutamente guardate io ho raccontato lì intanto le cose ovviamente scure che abbiamo vissuto nella nostra vita tanti ragazzi sono nati durante quella guerra in Afghanistan l'Iraq poi subito dopo hanno visto di tutto la verità è che anche durante la nostra vita abbiamo visto delle cose straordinarie nel 94 un anno dopo che sono arrivata in Italia finita l'apartheid di Sudafrica un uomo che era in prigione per 27 anni è stato eletto il primo presidente nero afroamericano era Nelson Mandela è stato eletto grazie anche a una presa di coscienza di un altro presidente Leclerc che ha deciso da bianco che ci credeva nell'apartheid a un certo punto ha capito ha compreso che l'apartheid danneggiava il Sudafrica e doveva cambiare non aveva scelta ma non è che è cambiato perché si è svegliato una mattina ha visto il sole no è cambiato perché c'erano stati la comunità internazionale ha imposto delle sanzioni economiche massicce ci vuole un prezzo politico per obbligare quel cambiamento invito tutte le donne che sono qui tra 18 e 108 anni i uomini votate in base ai vostri interessi una persona che porta avanti vostri ideali vostri ideali e imponete quel cambiamento perché nessuno rinuncia proprio ai propri privilegi ma quando arrivate a un momento di potere qualsiasi potere che avrete piccolo o grande pensate sempre a aprire la porta alle altre e fare rete in qualsiasi momento di questo arco della vostra vita professionale e personale quelle persone vi sosterranno e soltanto facendo rete si riesce a cambiare la società quando parlo di rete le parole di Aaron Dottai Roy che è questa attivista indiana straordinaria che hanno girato tutto il mondo e hanno toccato tutti noi sono stata in Sicilia recentemente sono appena tornata due giorni fa e mi ricordo da uno degli eventi a Palermo è arrivata a parlarmi una ragazza che si chiama Alessandra e mi ha detto che lei lavorava in questo studio erano come si dice sono oddio in questo studio in cui facevano le tasse quindi lei era una le tasse lavorava in un ufficio del fisco esatto faceva le tasse diceva che tutti quelli nello studio nonostante lei aveva un'anzianità maggiore i uomini guadagnavano molto più di lei ha letto quella frase di Aaron Dottoroy ha letto il libro è andata dal suo capo a un certo punto si è imposta ha detto io vorrei essere pagata vorrei avere la parità salariale lavoro ugualmente a loro sono la loro superiore quindi merito questo altrimenti me ne vado ha detto che l'uomo era scioccato letteralmente scioccato e la guardata ha detto lei è commercialista scusate ogni tanto le parole mi scappano lui la guardata silenzio per quasi due minuti a te perché non mi hai chiesto prima te lo davo quindi vi chiedo non essere io ero timida per un po' di tempo poi ho deciso quando sono arrivata in televisione ho detto no ho capito come bisogna fare la timidezza va bene va bene anzi le donne italiane sono molto eleganti molto educate ma spesso questo viene scambiato per debolezza io sono sicura che non lo sono deboli le donne italiane anzi sono molto forti molto resilienti però quel cambiamento che meritiamo va affermato va chiesto e va bene essere arrabbiate anche altrettanto vi assicuro che appaga alla lunga molto alla lunga ma appaga grazie il silenzio va evitato a tutti i costi e tu ci parli in questo libro di queste silence breakers delle donne che hanno rotto il silenzio e a volte non serve neanche fare dei grandissimi discorsi serve fare le domande giuste come in questo caso ma a volte come nel caso di Rosa Parks basta dire no basta dire no non mi alzo da dove sono seduta su quest'autobus nel 55 nel sud degli Stati Uniti ecco bisogna però cogliere il momento sapere dire le cose che vanno dette e essere ascoltate certamente il mito di Rosa Parks di una donna sola vecchina stanca a fine di un giornato di lavoro è stato completamente smontato faceva parte già di una rete per di attivismo per i diritti civili e quindi sapeva benissimo che cosa stesse facendo ma da quel no è nata una protesta enorme che ha fatto aperto la strada ha aperto la strada a Martin Luther King ha aperto la strada ai diritti delle persone nere negli Stati Uniti il silenzio permette agli altri di dire altre cose e io vorrei spostare questo discorso su questo hate speech che in Italia sta dilagando non solo nel mondo ma anche in Italia che sta anche colpendo le nostre comunità le nostre studentesse chi sta sui media ma anche chi come noi in questa università ha dovuto usare le piattaforme digitali per fare lezioni per fare gli incontri culturali eccetera che sono stati interrotti che sono stati commentati con frasi irripetibili che cosa possiamo fare abbiamo bisogno di leggi ma dobbiamo imporre questa legge come è stata imposta tutte le leggi che hanno cambiato questo nostro paese sono state imposte sia l'aborto la legge il porn revenge tante altre leggi che hanno protetto comunque le donne ci vogliono delle leggi magari non saranno mai implementate complementamente ma ci vogliono delle leggi ci vuole un costo politico bisogna criminalizzare i hate speech e lo dico anche perché vengo da realtà dove le donne si uccidono per questa storia dove le carriere vengono rovinate rovinate dove abbiamo in questo paese una senatrice a vita che ha 80 passanni è sopravvissuta all'elocausto che ancora viene chiamata con nomi inaccettabili vergognose dove un'altra carica dello stato come Laura Boldrini viene messa la bambolina e dice cosa fareste a questa bambolina sdoganando un linguaggio di violenza vera proprio il nostro paese ha conosciuto il fascismo e la verità è in qualsiasi museo dell'olocausto c'è questa frase straordinaria l'olocausto non è iniziato con le camere a gas con le assassini con le uccisioni è iniziato con le parole le parole di odio di violenza di divisione noi e loro le parole è violenza perché arma indirettamente un pazzo per poter c'è la distanza molto breve fra la violenza verbale e la violenza fisica quando Donald Trump diceva i giornalisti sono nemico del popolo immediatamente subito dopo sono state inviate delle bombe a CNN sono state uccise di giornalisti in tutti gli Stati Uniti suoi attivisti suoi fan andavano a uccidere giornalisti perché si sentivano potenti le parole di Donald Trump hanno armato la mente di questi personaggi Luca Traini poco a distanza da qui il terrorista italiano che pensava che è andato ha sparato a sei persone di colore e ha sparato anche la sede del Partito Democratico se tu leggi il suo manifesto parla anche delle donne è scioccante le sue parole perché nella classifica dell'inimico erano i neri i ebrei i democratici quindi quelli di sinistra le donne il suo manifesto ha ispirato un altro terrorista che ha scritto un altro manifesto in Nuova Zelanda e è andato a sparare in una moschea occidente 50 persone ma lì quando io vedo una cosa positiva subito lo riconosco la prima ministra della Nuova Zelanda Justin Dardenne ha deciso di far passare una legge non solo contro gli armi è andata al G7 ha preteso dai governi del G7 di regolare la rete tutti i stati del G7 tranne uno hanno accettato quello uno era guidato da Donald Trump in quell'anno lì lo so perché io ero consigliera del presidente Macron quando è arrivata a G7 Dardenne ci ha proposto quella proposta di legge abbracciata da tutti era di sanzionare economicamente e con pene severissime chi usa la rete per incitare all'odio alla violenza contro le donne e contro le minoranze Donald Trump ha rifiutato perché è il beneficiario di questa cosa qui quello era nel 2018 nel 2020 21 a gennaio i suoi seguaci radicalizzati dalla rete hanno attaccato il congresso americano guarda di nuovo se noi non interveniamo il problema diventa molto più grande e diventa davvero una minaccia contro tutti noi non solo contro le donne quando tu intervieni contro il hate speech contro le donne e le minoranze quel hate speech non si ferma lì prima o poi saranno minacce vere contro la democrazia contro gli istituti istituzioni democratiche per questo va fermato immediatamente chiedo a tutti voi di veramente spingere i vostri rappresentanti a portare avanti questa legge perché questa legge è seduta lì pronta in Parlamento ma sono occupati non so stanno approvando il vitalizio a qualche condannato sono molto più occupati le priorità non sono queste le priorità non siete voi le priorità sono altro ma dovete voi farli pagare un prezzo ampio perché è ora di cambiare le cose perché quello che sta accadendo nel nostro paese in cui ragazzine di 13 anni 14 anni che vengono chiamate e vengono insultate denegrate non è accettabile è un crimine e va condannato sicuramente ci sono tanti disegni di legge che sono fermi in Parlamento che sono fermi in qualche commissione di valutazione penso al disegno di legge per esempio che sembra un altro dovuto quando lo leggi e si è fatto un sacco di rumore per una cosa che appunto non sorprende nessuno però l'ignoranza c'è e credo che molto di questo odio sia frutto di ignoranza tu citavi Jacinda la premia nazionandese e io vorrei farti una domanda sulla leadership che cosa è la leadership che ci serve com'è la leadership che ci serve per cambiare questo mondo in modo che ci meritiamo guarda la leadership noi parliamo a cosa è una leader per me è una leader quella ragazzina che ha filmato il film di George Floyd non è necessariamente deve essere ma forse perché io vedo dei leader che sono persone comuni straordinarie persone invisibili quasi che davvero con la loro azione cambiano il modo di cambiano davvero l'arco di questa storia di cui parliamo la donna che mi ha allevato era una leader straordinaria che ha allevato migliaia di bambine con la convenzione che noi potevamo fare qualsiasi cosa se noi studiavamo lavoravamo duro ma soprattutto ci tenavamo libere anzi lei spesso diceva cioè sai trova la tua strada vedi cosa ti piace ma insisti e continua a realizzarti trova la tua identità e continua a realizzarti e continua a lavorare non ti rendere cioè non ti fare catturare non diventare un ostaggio un ostaggio di un ritaggio culturale di un matrimonio perché molto spesso nel nome dell'amore magari molto spesso si rinuncia soprattutto per le donne però lei molto spesso faceva vedere un mondo che non esisteva davanti a noi come ce l'ha fatto vedere col mondo con i libri cioè nonostante le bombe cadevano ovunque attorno a noi la desperazione totale lei attraverso i libri ci faceva vedere o sognare un mondo che non esisteva lì davanti alla nostra finestra c'era un'altra realtà ma attraverso le finestre che lei apriva nei nostri cervelli noi abbiamo potuto sognare un'altra realtà ma cercare di costruire quell'altra realtà e nel weekend ci portavano i campi profughi perché? perché voleva che noi voleva farci impegnare a favore di quelli ancora meno privilegiati di noi perché per lei i diritti umani i diritti civili non erano legati solo ai orfani ma erano legati a costruire la casa di qualcuno che è stata distrutta dall'esercito una donna che magari ha il marito morto e non poteva coltivare il suo orto quindi noi avevamo coltivare il suo orto le scuole che erano chiuse quindi insegnare ai bambini leggere e scrivere per lei la nostra responsabilità come cittadini e cittadine era di aiutare quell'altro devo dire durante la pandemia ho visto molto questa solidarietà straordinaria ovunque mi ricordo vicino a casa mia c'era uno che faceva il pane a un certo punto ho cominciato ad andare in giro soprattutto nelle zone nel Harlem nelle zone veramente povere a distribuire il pane gratuitamente abbiamo visto questi atti di solidarietà ma lì che si può davvero cambiare le cose cambiare una comunità una società nel proprio piccolo ognuno in quello che può fare però non possiamo pensare che votiamo le stesse persone sempre e pretendere un risultato diverso perché le persone che hanno fallito fino adesso non possono cambiare per questo invito tutti voi a avere coraggio e prendere in mano il destino di questo paese perché ha bisogno di voi grazie adesso penso che potremmo lasciare al nostro pubblico se ha delle domande se vuole fare dei commenti io poi ho un sacco di cose da chiederti ma vorrei lasciar parlare loro forse qualcuno che è in streaming che ha voglia di intervenire grazie Pietro grazie selezioneremo alcune domande che precisa che non vuole fare polemica ma chiede se sulla questione propaganda live non era meglio mettere da parte la questione per il fine migliore di parlare delle sofferenze dei palestinesi puoi ripetere la domanda per cuore non era meglio andare a parlare della questione dei palestinesi si lui chiede se non avresti dovuto andare comunque in trasmissione visto che c'era il tema della della Palestina della Palestina a Alessandro a tutti i uomini che mi hanno detto cosa devo fare vorrei chiedere di rispettare la scelta di una donna prima di tutto due io sono a parlare della Palestina tutti i giorni in tutte le reti americane quindi se lui era interessato davvero a sapere della Palestina avrebbe potuto trovarmi ovunque seguirmi ovunque non solo su propaganda live lì ho fatto una scelta precisa di dire ai autori a tutti gli autori guarda a casa a tutti i maschi guardate io sono per carità sono privilegiata sono felice che ancora mi invitano nella televisione italiana però devo pensare alle mie colleghe alle mie sorelle alle altre giornaliste perché io non voglio essere sola non voglio essere la minoranza della minoranza della minoranza ora devi smettere con questa storia qui in cui abbiamo 200 uomini e una donna perché quel ghetto dobbiamo veramente distruggerlo in una società civile democratica non possiamo pensare che la televisione in cui tutti gli uomini ci sono pochissime donne a cui viene dato spazio e pochissimo quella è la normalità perché non lo è chi parla all'estero chi lavora all'estero sa che le prospettive diverse delle minoranze delle donne poi non sono minoranze le donne quindi ho letto molti tra l'altro Propaganda Live dovrebbe essere un programma progressista se questi progressisti fanno fatica a accettare le critiche da parte di una progressista come me non oso immaginare l'altra parte perché la loro giustificazione il giorno dopo guardiamo alla qualità non alla quantità e la qualità guarda caso maggiormente maschile e soprattutto sempre maschile vuol dire che c'è un discorso a valle che va cambiato questa stanza del potere dei maschi in cui se la cantano se la suonano deve finire in Italia e deve finire una volta per sempre io non voglio essere l'unica voglio usare qualsiasi spazio che ho per aprire la porta a altre colleghe se lui è interessato davvero alla Palestina perché era stata questa cosa la Palestina il direttore di rete tra l'altro l'autore di quel programma ha altri otto programmi perché non invitava altri giornalisti che parlano della Palestina giornaliste guarda caso non sono l'unica e non voglio essere l'unica mi rifiuto di essere l'unica utilizzerò qualsiasi momento qualsiasi spazio che ho come ho fatto a Sanremo in cui uno spazio come questo viene dato alle donne per fare comunque le presentatrici io l'ho usato per parlare delle storie di altre donne delle storie delle donne che vengono soffocate dalla violenza come mia madre e come tanti altri lo uso e utilizzerò qualsiasi spazio per cambiare le cose altrimenti non mi invitate perché sono felice di farlo da altre reti che implementano la parità che praticano la parità quindi la sua domanda deve andare a anno zero chiedo Alessandro di mandare la tua domanda a propaganda live che mi sembrava la stessa cosa a propaganda live e chiedere a loro e mi chiedo se ha fatto quella domanda a loro come mai invitate così tanti uomini poche donne perché se non l'ho fatta la domanda vuol dire che le sta bene quella situazione lì a me non sta bene quando qualcuno parla come rula posso aggiungere una cosa a tutti i colleghi tra l'altro a tutti i maschi che mi hanno mandato solidarietà privata non mi serve la solidarietà privata chiedo per cortesia quella solidarietà di mandarla tutti i giorni alle donne italiane che sono nella televisione che devono affrontare una situazione in cui ci sono sette poltrone e una donna ci sono quattro poltrone e magari tre minuti per una donna chiedo davvero abbiamo bisogno della vostra voce avete il coraggio di esprimervi a favore delle altre colleghe perché questa non è una battaglia per me o per altre questa è una battaglia per il nostro futuro per la nostra libertà per il nostro paese per le vostre figlie abbiamo anche bisogno di uomini che lo facciano la presidente della commissione europea non ha avuto il sostegno del suo collega francese nel momento in cui c'è stata questa diatriba sul sedersi o non sedersi al consesso degli uomini a Istanbul quindi troviamo anche nelle più alte istituzioni una mancanza di attenzione che va denunciata lei l'ha fatto e credo che avremmo dovuto chiedere non tanto le dimissioni di Erdogan che è un dittatore e non possiamo farci niente in questo momento ma del presidente del Parlamento europeo devo dire vedere i due uomini nei loro tronetti seduti felici se la cantavano se non avano guardavano quella donna devo dire una pugnalata ma aspettato era una cosa me lo aspettavo me lo aspettavo perché dopo quattro anni in cui Trump trattava Erdogan quando Erdogan è venuto due anni prima a Washington con la sua squadra di protezione e c'era una protesta dei kurdi a Washington questi qui non pensavano di essere a Washington pensavano di essere non so a Istanbul e hanno picchiato questi che protestavano Trump l'ha difeso vedi questi qui che protestano ovunque perché quando sei hai una tendenza autoritaria e sei davvero una persona che crede nell'uso della violenza fisica e anche la violenza vera condividi questi ideali Erdogan aveva in Trump un alleato non l'ha mai criticato in nessun modo anzi molto spesso quindi cosa è stato fatto a Erdogan lui si è sentito potente alla protezione degli Stati Uniti al Presidente che lo invita alla Casa Bianca anzi lui è la figlia che le mandano i messaggi su Twitter di congratulazioni lui non deve rispettare i diritti umani perché l'Occidente ha venduto quei diritti umani l'Occidente ha eletto un mercenario come Donald Trump che pensa che i diritti umani sono una cosa irrelevante più importante avere magari una palazzina no? del gas del petrolio era molto più importante altre cose ma la cosa scioccante è che quando noi per la questione degli accordi sugli immigrati siamo andati da Erdogan per pagarlo i soldi perché così teneva i immigrati che messaggio stiamo mandando a Erdogan? che l'Occidente è disposto a pagare a vendere i diritti umani nel nome di no emigrati cioè lì c'è una transazione è molto facile Erdogan è un uomo che ha vissuto nei suc nel mercato nel bazar lui parla il linguaggio di cosa mi dai cosa posso ottenere cosa stai vendendo e se il messaggio dietro è che i diritti umani non sono importanti quello che sta vendendo guarda in Turchia io ho visto le donne più straordinarie una di loro era la governatrice di Ghazi Anteb si chiama Fatima Shahin Fatima Shahin una donna che governava tutta quella zona sul confine tra la Siria e la Turchia sono andata a trovarla perché il New York Times mi aveva mandato per scrivere un articolo sui rifugiati sono andata lì arrivo mi aspettavo una donna con il velo invece una donna molto laica una donna che a un certo punto mi ha detto io mi rifiuto di farmi dittare le regole dai terroristi la ruota della democrazia deve continuare a girare questi qui non mi minacceranno questi qui mandavano dalla Siria i soldati dell'ISIS e si facciano esplodere nei matrimoni nelle chiese a un certo punto lei ha chiamato il comandante Nato il comandante dell'esercito entrata dentro la Siria non aspettando Erdogan nemmeno il messaggio ha ripulito tutte quelle zone di Gerablos a Babes Shams tutti quei villaggi attorno al suo al suo stato Gazi Anteb le ha ripulite completamente ma non solo era un intervento armato quindi di polizia di questi di questi terroristi ha ricostruito subito un ospedale una scuola e un orfanotrofio lì a Gazi Anteb dove le donne sopprate dall'Isis che mi hanno raccontato la loro storia lì è il momento che ho riconosciuto la mia storia perché la storia di mia madre mi soffocava per anni il silenzio dentro di me era mi mangiava dentro però non avevo il coraggio di raccontare quella storia ammetto per tanti anni mi vergognavo di quella storia la storia di quelle donne in quel momento lì ha liberato me in quel momento lì le nostre storie sono incrociate quando tre anni dopo quasi quattro mi hanno chiamato a Sanremo io sapevo di cosa volevo parlare il mio intervento lì era ammerato avevo un obiettivo solo quelle donne in Siria mi hanno liberato di cercare di dire alle donne non solo in Italia qualsiasi donna che parlava in italiano e comprendeva l'italiano cercare di dargli forza e coraggio esattamente quel coraggio che è stato dato a me da quelle donne straordinarie le sopravvissute volevo usare quel momento lì per dire a quelle donne che le loro storie valgono che io le ascolto che meritano giustizia per me Sanremo era quello l'obiettivo spero di averlo raggiunto ma invito tutti voi in qualsiasi momento che conoscete una sopravvissuta ascoltate quella che vi dice ascoltate la sua storia aiutatela sta a liberare il peso che sta portando dentro grazie abbiamo avuto Liliana Segre qui un anno e mezzo fa la sua testimonianza è stata fortissima ce la portiamo tutti nel cuore come una lezione di vita incredibile la narrazione di lei bambina che cerca di evitare di essere uccisa a 13 anni per la folia nazista questo è un segno indelebile che tutti dovrebbero avere proprio nel cuore perché ti raccontano di come la sopravvivenza viene dal voler vivere ma anche dal sapere in che situazione ti trovi e che non sei d'accordo con quello che hai di fronte e quindi lì parte la resistenza lì parte la voglia di cambiamento e questo è indispensabile se vogliamo un mondo diverso lei l'ha cambiato e tu lo stai cambiando tanti di noi ci provano quindi grazie davvero c'è una domanda dal pubblico ci sono interventi prego in merito all'uscita non so se chiamare l'esternazione della vicepresidente americana che ha invitato in merito l'esternazione della vicepresidente americana che ha invitato i profughi sudamericani a non venire negli Stati Uniti tu la vedi come un incidente di percorso diplomatico lo vedi come un cambiamento di rotta lo vedi una frase in un contesto da analizzare grazie grazie io so che Salvini l'ha presa e tutti quelli estremisti di destra ah ecco non vogliono immigrare intanto gli Stati Uniti hanno promesso ma quando diciamo aiutiamola a casa gli Stati Uniti lo stanno facendo con aiuti finanziari con aiuti umanitari e soprattutto con un miliardo di vaccini che stanno dando a quel mondo lì gli Stati Uniti in questo momento soprattutto in questo momento preciso effettivamente hanno una questione molto seria quella di come aiutarli a casa ma non è uno slogan come lo fa Salvini e quelli e quelli di destra un uomo che era eletto al Parlamento che prendeva lo stipendio in cui non ha mai partecipato nemmeno una volta a tutte le riunioni per come regolarizzare l'immigrazione quindi quando Kamala Harris dice non venite noi vi aiutiamo a casa perché prendete la prima frase poi l'arresto viene mollata il contesto serve a qualcosa le borse di studio degli Stati Uniti da al terzo mondo sono centinaia di migliaia con tutto il rispetto per l'Europa aiutiamola a casa con poche lire è slogan perché i soldi li diamo a chi? li diamo a Erdogan che è un dittatore e li diamo a mercinari in Libia questo non è aiutarle a casa quello aggravare la questione perché quando il tuo alleato un Erdogan o i mercinari come Haftar in Libia sei sicuro è come fare un accordo con la mafia perché la mafia deve smettere quello che fa quando fai accordi con loro anzi è un incentivo a continuare perché continuano ad arrivare aiuti aiutiamola a casa vuol dire investiamo davvero in che cosa? nella pace quando perché scappano via le persone? nessuno vuole lasciare il proprio paese se quel paese è stabile scappano via perché ci sono le guerre semplicemente perché ci sono le guerre il venditore di armi numero uno al mondo sono gli Stati Uniti e l'Europa quindi se noi non vogliamo guerre mettiamola così se non vogliamo immigrati allora dobbiamo essere coerenti e non vendere le armi a quelle che creano le guerre bisogna essere consistenti quando Salvini va a vendere a Sisi degli armi e questo ci uccide un connazionale siamo davvero sorpresi? non ha rispetto per la vita umana perché deve avere rispetto verso anche la vita umana di uno occidentale sa che comunque continueremo a vendere gli armi perché agli occhi di alcuni mercenari vendita delle armi è molto più importante della vita umana dei diritti umani chiedo a tutti voi quando sentite una frase come quella dice Kamala Harris ascoltate il discorso completo ma guardate non solo alle parole alle politiche che vengono attuate soprattutto alle politiche finanziarie e alle politiche le politiche fatte anche a quello che chiamano gli Stati Uniti il soft power no? quante borse di studio quanti vaccini quando l'America dice vogliamo mandare un miliardo di vaccini siamo 7 miliardi al mondo no? un miliardo come fase iniziale poi stanno parlando subito di liberare i brevetti stanno parlando di mandare borse di studio di creare un'alleanza con tutta quella una serie di mondo ma essere progressisti nella politica interna no? e non nella politica estera serve a poco perché nel El Salvador in Messico in tutte quelle zone lì ma anche in Medio Oriente dove 90% di rifugiati che arrivano in Europa sono dal Medio Oriente cosa è accaduto in Medio Oriente in questi anni? chi ha votato per la guerra in Iraq? i governi di destra chi ha venduto gli armi ai dittatori mediorientali? Saddam Gaddafi Mubarak Sisi Assad chi vende gli armi a questi signori qui? quindi se tu non vuoi l'immigrato se vuoi l'immigrato che rimanga a casa allora deve pretendere e chiedere al tuo politico di non fare affare con questi dittatori perché è quel dittatore che ti manda l'immigrato grazie spero di aver risposto questo soft power che viene anche dal distribuire denaro noi ce lo stiamo scordando in Italia perché abbiamo un PNRR un piano per nazionale per la ripresa e la resilienza dove la parità di genere non ce neanche non c'è come parola e non sappiamo quanti soldi arriveranno per sostenere le donne soprattutto e dopo una pandemia così feroce che le ha colpite in prima persona si sono alzate tantissime voci tu dici nel tuo libro che a volte basta gettare un sasso e poi si creano delle onde e queste onde poi hanno un effetto anche si allargano e raggiungono altre persone però anche in un governo democratico come quello in cui penso ci troviamo non c'è ancora c'è solo a parole questa volontà di investire in di investire sulle donne le parole in questo momento servono a poco e credo che la mancanza di leader donne nella politica sia un male che non riusciamo ad affrontare che cosa possiamo fare? scendere in piazza a raggiarvi scendere in piazza e vi do un appuntamento tra l'altro se posso verranno tutti i leader del G20 qui in Italia il 30 al 31 di ottobre tutti i leader il G20 è stato creato come organizzazione come associazione come una risposta dopo la crisi economica del 2008 dopo che hanno distrutto l'economia hanno creato questo organismo questo summit perché così globalmente diamo una risposta concreta il governo Conte pensa di aver dichiarato quali sono i temi principali di questo G20 popolo noi prosperità pianeta pianeta e popolo sono collegati la questione della giustizia ambientale e la giustizia anche salariale paretetica sono collegati le attiviste infatti dei cambiamenti climatici sono le attiviste a favore dei diritti delle donne ci sarà una marcia globale mondiale di tutte le attiviste che arriveranno da tutto il mondo io invito tutti voi a farvi sentire ad essere presenti non solo a Roma in tutte le città italiane creiamo una catena in cui la vostra voce arriva alle stanze più alte del potere chi si nasconde in quelle stanze del potere è con dei consiglieri che se la dicono e se la cantano se la suonano e la raccontano quanto bello e invece se sente le attiviste nelle piazze questo potrà cambiare tutto lo dico perché recentemente ho seguito un'intervista straordinaria di Anthony Fauci l'uomo che comunque tutti amiamo un italo-americano che davvero ha gestito la pandemia nelle condizioni e lui ha detto che negli anni 80 lui si occupava di un'altra malattia l'HIV dice che tutti i giorni sotto il suo ufficio venivano tutti gli attivisti per orlare perché volevano essere sentiti i loro cari morivano non c'era un'atarpia non c'era ricerca non c'era niente Anthony Fauci con un uomo straordinario sceso ha cominciato ad ascoltarli ha cominciato a comprendere quanto urgente era la loro richiesta di aiuto e quando ha incontrato il presidente Reagan la prima cosa che ha detto presidente lei deve ascoltare quelle persone che stanno soffrendo quelle persone escluse e marginalizzate Reagan che era un conservatore ha detto mai però Reagan privatamente l'ha detto però portami tu le loro richieste e da lì Reagan non ha potuto farlo stanziare dei fondi quindi Fauci cosa ha fatto quando ha capito che il governo Reagan non avrebbe fatto niente ha andato a tutte le aziende private ha detto aiutatemi aiutatemi a fare ricerca per trovare una terapia vi dico quello che accade nella nostra società è una malattia l'esclusione delle donne e la discriminazione contro le donne è una malattia una vera malattia dobbiamo creare rete dobbiamo fare sentire la nostra voce e dobbiamo scendere nelle piazze altrimenti quegli uomini nelle stanze del potere non ci sentono non ci ascoltano stare a casa dietro alla tastiera e parlare fra di noi non cambierà le cose dobbiamo bussare a quelle porte del potere e pretendere quel cambiamento chiederlo chiedere che questi signori che decidono per la nostra vita cominciano a cambiare mentalità per cui quel cambiamento considerano quel cambiamento urgente importante adesso non fra cent'anni io non voglio aspettare 800 anni per un'altra rettrice in un'altra università ci sono 8 in tutta l'Italia 100 università 8 i numeri sono agghiaccianti riflettono una realtà non voglio più aspettare e non dovete farlo voi grazie posso posso solo ringraziare intanto te ringrazio tantissimo per questa bellissima chiacchierata grazie a te e vorrei ringraziare una persona che è venuta con me Marianna che ti prego alzati Marianna mi ha aiutato a scrivere questo libro straordinario non ce l'avrei fatto senza di lei quindi io sono super grata ma grazie a tutti voi per averci ascoltato e io continuerò ad ascoltarvi anche quando non sono qui quindi mandate qualsiasi email che volete con tutte le vostre domande che non avete magari potuto fare io vi ascolterò grazie grazie e speriamo di poter scendere in piazza perché in questo anno e mezzo le piazze purtroppo sono rimaste vuote questo è un vulnus per noi è un problema allora grazie molte se c'è qualcuno che vuole far filmare una copia del libro di Roulage Bral possiamo spostarci anzi dobbiamo liberare questa sala subito perché c'è il popolo delle elezioni che sta aspettando di occupare questa stanza e quindi grazie ci rivediamo presto alla prossima e buona serata a tutti grazie grazie grazie